Non ce l'ha fatta l'uomo coinvolto ieri nella grave incidente stradale avvenuto a Caronno per Tusella in via Rossini nella frazione di Bariola a pochi passi dalla confine con Lainate. Pietro Inerme, residente in zona, 60 anni, è morto. Ieri mattina poco prima delle 8 per cause da accertare era stato investito da un'auto mentre stava pedalando in sella la sua bicicletta. Sul posto erano accorsi i carabinieri, la polizia locale e oltre a un'automedica un'ambulanza della Croce Azzurra di Caronno che lo aveva trasportato all'ospedale di Legnano. Le sue condizioni erano parse da subito molto gravi, poi purtroppo il decesso.